Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video to minecraft mi vedete subito all'opera ragazzi perché non ho bisogno, devo scattare insomma, this desert dim, desert hills, desert oil, desert m, cazzo è un desert m, si ragazzi sto subito all'opera perché dato che adesso sto accumulando un casino d'acqua con la fonte d'acqua che ho di là, ricordate quella che è insomma la zona nuova, adesso ci sto mettendo un quantum link raga, ancora devo sistemarlo però lo faccio off camera, si non me faccio, vedi tutti i quantum link le cagate, e comunque mi serve un bioma deserto perché ovviamente adesso c'è tutta l'acqua e io comincerei la mecanismo, la quintus picazzo che ho una vita che dico che devo farla però non riesco mai a farla, desert hills dim, qual è che devo prendere, desert o desert oil field, effettivamente prende il desert oil, non mi dispiacerebbe perché alla fine utilizzo il deserto, però fammo desert ok, il problema è che il bioma desert potrebbe avere dei problemini conseguenzionali a tutto ciò che io voglio creare, vi spiego, guardate allora vi è tutto dentro, tutto dentro questo non c'è dubbio, ok warning, vedete c'è un errore, allora il bioma desert non è un problema, terra in flat, perfetto terra in flat va in conflitto con cosa, con niente perché non c'è nulla di cui è composto il terra in flat, quindi dovrei mettere il bioma, ah, ok questo potrebbe essere un problema, ecco il problema ragazzi ho messo due terra in flat perché sono un drogato tossicomane, quando uno si droga, finisce così, come me, drogato che si mette due terra in flat in un coso allora il terra in flat e il bioma desert dovrebbero andare in combo cuncio, mi spiego, cioè dovrebbe essere tutto deserto, insomma dovrebbe venire un bioma deserto e il tempo, gli effetti e le altre cagate sinceramente non me ne ho fatto in canza, anzi lo sapete che faccio? Lo metto in colonna così fa ancora più figo, sky ender, structure non e weather not under ok, dovrebbe andare così, spero, credo, buh questo macchinato ragazzi per chi ancora non l'avesse capito e chi non ha visto i vecchi video, se li va da rivedere qualche video fa ragazzi non è molto, l'RF Tools ci permette di creare dimensioni e quindi adesso vado a immagazzinare tutte queste caratteristiche dentro il mio dimension tab e me ne vado ad attivare questo mondo perché in teoria dovrebbe essere un mondo completamente desertico, ora non so se così sarà la mia teoria è questa, dato che ho messo il bioma deserto prima del mondo super piatto, cioè ho detto questo sarà un mondo super piatto però il bioma dovrà essere deserto, quello che succederà, nessuno lo può sapere cioè, per quanto possiamo essere bravi creatori di mondi ragazzi, per quanto possiamo cercare di fare il dio in questa situazione non si sa mai, cioè alla fine è random, cioè alla fine ho capito, cioè io sto creando una dimensione, non posso creare esattamente immaginate la realtà creare una dimensione, create una dimensione dai dai, prego vabbè comunque potrebbe non essere insomma come vi spiego, perfetto, potrebbero esserci degli errori però in teoria dovrebbe venire deserto, spero ovviamente raga, prima di entrare nella dimensione non vi dimenticate mai, mai di prendere sempre un dialing device per tornare indietro ragazzi, se rimanete senza dialing device rimanete fottuti nella dimensione quindi se per esempio un dialing e un matter transmitter, questo qui non vi dimenticate mai, 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 servono sempre, 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 sempre e poi portate dietro magari anche un paio di tesseract che vi fanno comodi ma è basta uno effettivamente però l'importante sono matter transmitter, dialing e tesseract se non li portate ragazzi siete fottuti, potreste anche perdere il mondo un po' un casino allora quindi aggiungiamo i cartelli, questo era pioggia pioggia world, si fa figo, mamma mia e questo lo chiamiamo, niente ancora, perché non siamo ancora sicuri di funzioni allora quindi colleghiamo il quarto dialing posizione 177 lo vediamo dalle coordinate qui vedete in alto x1774 no, 176 scusate, meno 176 ve lo faccio vedere meglio, fermi guardate, ecco qui meno, ah no, meno 176 non è meno 177 si droga sto coso non è meno 177 meno 176 ma che cosa? vabbè vabbè, meno 177 che è quello non so che problemi ha con la dimensione 10 dial perfetto ragazzi dimensioni collegate, adesso entriamo e vediamo se c'è il nostro deserto o ciò che noi cerchiamo vediamo, 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 vediamo e volare dove cazzo siamo? vediamo un po' bioma? bioma? che cazzo è? oh mio dio no dove stai scherzando? portacci vostra oh ma che cazzo è stata di? bioma però qual è? dov'è il bioma? bioma è deserto ma che cazzo è stata di? si vabbè ciao vabbè è stato si vabbè sfasciano tutto oh io devo torno a casa voi non avete capito proprio un cazzo io devo torno a casa tu ne vai portacci vostra ori niente non muore ok è morto si raga però mi sfasciano se io adesso piazzo il dialing me lo rompono devo prima ammazzarne un po' no non è possibile veramente assurdo mi devo uccidere un pochettini e poi posso mettere il dialing no rispano man mano no zero 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 ok raga il mio obiettivo è completo però qualcosa non è andato come previsto come vi ho detto la creazione del mondo è un po' c'è qualche insomma qualche qualche impiccio ogni volta qualche intoppo che può creare problemi eh e in questo caso l'impiccio ragazzi sono stati dei ghast mostruosi ci di tutti ok mi sono nascosto sotto terra ragazzi perché mi stavano riempiendo di botte adesso facciamo comunicare questo con plutone comunica wow 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 i ghast mi sparano mi vedono mi vedono e mi sparano tappa 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 vanno sparare di nuovo merda ok ok torno un attimo a casa ragazzi è un problema allora fermi tutti io devo riprendere questa dimensione e andare a modificare gli NPC che spawnano perché direi che quelli non vanno per niente bene ma nemmeno un pochettino lo sapete ragazzi ma neanche un pochetto oh mio dio follia pura ok andiamo qui estrai scusa non c'è mobs no ne no non ho messo i mobs no sono un pazzito mob devo mettere non in teoria or speak zombie cold mushroom spaz zombie skeleton wolf chicken sheep gas che default ok mob default si ragazzi senza il mob default viene un po' un casino insomma quanto pare mob default vai ok rimagazziniamo tutto store e andiamo a rimplantare il nostro dimlet ok vediamo un po' che è successo ragazzi speriamo che si sia risolto in qualche modo il problema ah ragazzi finalmente un deserto completamente deserto pieno di queste pozze di acqua rosa che continuano a continuiamo a trovare in giro ragazzi e c'è anche ah bello è venuto un desert oil figa casette alieni casette alieni continua a venire il deserto di olio figata ok ragazzi perché il deserto ovvio ve l'ho spiegato nel video della meccanismo per chi l'ha guardato ragazzi la meccanismo deve iniziare l'impianto di quadruplicazione nel deserto perché il deserto produce più brina esatto ragazzi quindi essendo nel deserto potremmo produrre tantissima brina dalla nostra acqua l'unica cosa è che mi serve tanta acqua però nel frattempo ragazzi sto creando tutto l'impianto quantum per poter comunicare con la dimensione dell'acqua ragazzi sì perché per fare sistema meccanismo c'è bisogno di un casino d'acqua quindi senza acqua non si fa un cazzo di niente no acqua non parti quindi ho bisogno di un trasporto ultra rapido di acqua e di aumentare la produzione di acqua nella dimensione della pioggia 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 acqua pioggia acqua pioggia capito non so la trasmissione la vedete com'è e adesso vado anche a creare una singularity al volo no butta 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 prima che esplode no butta ho buttato pure il piccone non c'è su niente wow la gata ok no ho marato il piccone no ho marato il paxel rosico rosico non c'è me quando faccio le cose di fretta la fotte cazzo ok ragazzi andiamo a inserire la singularity qui e nell'altra dimensione quella lì qui e una nella dimensione dell'acqua andiamo andiamo let's go let's go ovviamente ragazzi prima di andare a dimensione dell'acqua mi devo portare una cella piena perché altrimenti il sistema non parte ovviamente e dovrei riuscire a collegare la cella qua e questo qua e l'impianto dovrebbe essere collegato e funzionale ragazzi qui preparatevi una cosa what the fuck che non c'è cioè ci sono arrivato da un po' però non l'avevo mai detta non so se l'ho mai detta veramente però è tipo what the fuck allora perché io metto la cella qui e non mi porto il tester ho scoperto una cosa disumana ragazzi la cella sapete che si carica dall'impianto dell'ME giusto? ok quando voi collegate la cella qui la cella dà energia a questo ok? ok quando mettete la singolare di questo si collega con l'impianto di casa giusto? ok collegandosi con l'impianto di casa prende anche l'energia dell'ME dall'impianto di casa per i terminal per gli import e gli export e anche per le celle quindi dall'impianto di casa arriva il canale dell'ME che carica la cella e la cella accende il quantum ring cioè basta mettere una cella e c'è energia infinita un testeract e i cavi non servono a niente ragazzi ma avanti da solo è tipo un cheat bug assurdo in teoria dovreste rifornire costantemente di energia tramite testeract e mettendo una singola cella non è necessaria la cella si ricarica dall'impianto dell'ME e dà energia al quantum ring automaticamente what the fuck molti già lo sapete cioè non ve l'ho mai detto non mi ricordo però mi piace un po' questa cosa cioè è tipo strana capito è tipo un paradosso temporale insomma perché effettivamente non è un bug perché è così che deve funzionare però effettivamente è un bug cioè cosa mi serve ora? allora altri weather 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 altri weather collector ne facciamo altri 100 start perfetto poi ci servono flux duct fluiduct tutta la roba insomma di contorno poi ci servono dei tank ci servono import bus bla bla e poi ovviamente ragazzi dobbiamo fare i salination controller sali saline 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 oh hanno cambiato nome ragazzi si chiamano solar evaporation non lo sapevo erano i salination controller salination solar evaporation ah perché non va? dynamic tank cos'è un dynamic tank? lol lol what the fuck ok si ragazzi sto incodando tutte queste recipe perché mi servono sono questi che devo fare adesso ragazzi mi da e mancano cos'è questo? dynamic valve ok va benissimo incodiamo where is the problem incodiamo anche questo incodiamo tutto poi ne metto un craft un po' tipo di evaporation block ne facciamo 300 dovrebbero bastare di evaporation controller ne facciamo una decina dovrebbero bastare missing circuit per i circuiti invece ragazzi un osbium da un circuito e lo mettiamo nella pattern dove sta l'altra roba della meccanismo che non la trovo ecco il metallurgic infuser voila perché richiede sempre redstone quindi il metallurgic infuser che abbiamo fatto nello scorso video ci resta utile anche per questo eh? figata eh? adesso possiamo in teoria craftare 10 di questi senza 110 bastano 10 perfetto start poi ci servono anche una ventina di queste perché ogni controller ci vogliono 2 di quelli quindi ci facciamo 20 e voila il gioco è fatto eccomi qua nel mio bellissimo pioggia world e vado ad aggiungere i tank tramite fluidut allora facciamo dei fluidut che passano così no non mi piace così no brutto brutto voglio che gira tutto intorno come medio lanum eh facciamo così guardate un contorno dme cable è proprio cattivissimo guardate tutto un girotondo bellissimo mamma mia può fare impallare il server girotondo girotondo ok no perfetto e adesso facciamo tutto un girotondo di tank intorno così sì questo ragazzi serve a distribuire l'import dei liquidi in modo che non si intasi tutto guardate cosa facciamo vedete tutto un contorno di tank bellissimo e sta batteria magari la spostiamo pure da qua ovviamente questo sistema vale per l'acqua come vale per tutti gli altri liquidi qualunque liquido lo state estraendo in grande quantità insomma fate così ed è fatta pure se lo estrate tipo se mettete 10.000 pompe nell'oceano o avete sistemi di moltiplicazione dell'acqua e cazzo ne so vabbè voi che avete l'acqua infinita è un altro discorso quindi tutta una scimità quello che sto facendo io per voi è relativamente inutile per me è la cosa più utile che posso fare in questo cacchio di stupidissimo gioco ecco fatto adesso continuo a mettere i tubi l'unica cosa che mi resta da fare ragazzi è aggiungere gli acceleration agli import in modo che aspirino l'acqua più rapidamente come faccio a dimostrare se l'acqua è aspirata a sufficienza basta che vedo un tank vuoto quando vedo un tank vuoto vuol dire che stanno assorbendo a sufficienza molto facile ragazzi vedete questi tank sono vuoti sono vuoti perché arriva meno acqua di quanto aspira quindi sta molto sciallo sta aspirando non so quant'acqua a velocità disumana guardate un po' i tubi che non sono pieni guardate i tubi che sono mezzo vuoti adesso io scollego anche questo tester gli metto la frequenza interdimensionale così nemmeno mi utilizza i cosi a casa ecco qui fluid ignore via stacca stacca non niente liquidi solo energia e voilà tutti i liquidi dirottati su questi tank che stanno importando a velocità disumana da paura ragazzi tutto funziona wow una cosa che funziona incredibile bel impianto mi piace devo aggiungere altri altri weather controller si 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 ok ragazzi a casa mi stanno arrivando quantità industriali di acqua quindi molto presto attiveremo questi questi solar evapulation controller ragazzi nel frattempo io mi sto montando le strutture e vi saluto e ci vediamo nel prossimo video spero che il video vi sia piaciuto lasciate un mi piace se vi è piaciuto fatemi sapere commentate scrivete quello che faccio non faccio fai quello fai non quello tutte le richieste verranno presenti in questa direzione ricordate hashtag non ho capito e ci vediamo al prossimo video intanto che ho questa struttura qua se non sapete come funziona guardatevi il video del meccanismo che ho fatto cercate su oppure cercate su youtube meccanismita dovrebbe uscire il mio video insomma tutto tutto spammoso ciao a tutti al prossimo video bye ciao